Buona giornata Oggi è lunedì 5 aprile 2021, per favore pensa positivamente e vivi bene Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi Oroscopo Capricorno Anche voi nella luna di Pasqua Seconda l'antica tradizione germanica nel plenilugno di Pasqua si vede un leprotto, intento a tritare erbe con un pestello Potreste essere voi quel simpatico animaletto, tranquillo e silenzioso ma sempre disposto a far del bene all'umanità e soprattutto al proprio habitat Ma poiché considerata la vostra casa e il mondo intero, vi impegnate oggi e per gli altri 364 giorni per tutelarla Piagata da troppi abusi e schiaffi, finché consumismo e potere continueranno a colpirla Povera lei, c'è proprio bisogno del vostro aiuto e di tutti quelli che la pensano allo stesso modo I giusti, così li chiamava la Bibbia, e con ragione, punto Astro tarocco del giorno per Capricorno Due spade rovesciato Il rapporto di coppia risente di una discreta ambiguità, e sono possibili anche falsità, egoismi, bugie e qualche tradimento L'incompatibilità dei caratteri potrebbe fare la differenza che porterà a una crisi di coppia molto seria L'amore è destinato a diradarsi e le coppie a dissolversi I single, pur avendo buone opportunità, non sapranno sfruttarle e annasperanno in un mare di indifferenza le loro problematiche, punto Incontri interessanti Lettere Telefonate SMS Notizie Novità Inviti Proposte Comunicazioni d'amore e tanta voglia di divertirti Oggi non vi preoccupate più di tanto se non sentirete forti emozioni o solo se vi sentirete sterili e apatici La mattinata va così, ma la serata promette ampia ripresa, punto Una situazione riguardante la casa si sistemerà Uscita di denaro Fai solo ciò che ritieni realmente importante, per il resto riposa Sarai attivo e allegro Giovamenti per quanto riguarda casa e famiglia Tanto affetto intorno Una possibile vincita al gioco Segui l'intuito C'è qualcuno vicino a voi molto geloso e che con il tempo potrebbe procurarvi qualche noia Cercate di individuarlo ma non litigate Piuttosto studiate come neutralizzarlo, punto Oggi una persona amica alla quale avete promesso aiuto sarà molto risentita con voi perché tra le tante cose che avete da fare avrete dimenticato la promessa fatta Siete ancora in tempo a mantenerla Non prendete sempre sul personale ogni cosa che vi viene fatto notare Qualche volta siete permalosi e troppo attenti a vedere significati nascosti Siate più semplici, punto Non agite distinto Non è il momento di essere precipitosi Oggi godetevi le carezze che Venere vi riserverà Momenti romantici si accompagneranno a momenti dolcissimi, punto Ci sono delle discussioni che andrebbero rimandate, poiché hanno bisogno di calma e soprattutto di riflessione, prima di essere affrontate Fate uno sforzo, dovete aprire le porte del vostro cuore per sentire la fresca brezza dell'amore, punto Oggi, desiderate aiutare più gente possibile, ma non disponete dei mezzi per fare un buon lavoro Continuare in questo modo potrebbe rivelarsi deleterio per i rapporti sociali e lavorativi, punto Oggi una persona vi colpirà molto per l'intensità con cui vi parla e per l'intensità delle sue parole, punto Celebrazione pasquale che si configura come abbastanza serena, malgrado Venere, Sole e Mercurio siano nel segno a voi ostile dell'ariete e vi rendono un po' impieti, specie se siete capricorni nati nella seconda decade La Luna, pianeta della sensibilità, si trova nel vostro segno e vi apre una celebrazione pasquale in famiglia e con gli amici, che troverete divertente, frizzante, dove la noia sarà completamente bandita Ne sentirete maggiormente i buoni influssi se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 22 al 28 del mese di dicembre, punto Secondo l'oroscopo di Paolo Fox, oggi, 5 aprile 2021, e in generale nei prossimi giorni sarà importante valutare con molta cura i passi da compiere Il consiglio delle stelle è quello di darvi delle priorità, fare il punto della situazione e capire cosa portare avanti e cosa no, anche perché la stanchezza è tanta Non trascurate il partner, punto Sarà una giornata che passerà in fretta, sarete presi dalla solita routine, non succederà nulla di diverso In salute vi sentite particolarmente deboli, sarà meglio che vi riposiate un'ora di più, punto Non abbiate timore di sbagliare in questa giornata, altrimenti resterete fermi al punto di partenza, mentre tutti gli altri si daranno da fare Non importa come, ma bisognerà essere pronti a rischiare qualcosa, punto Mal che vada vi troverete tutti sulla stessa barca e troverete comunque il modo per salvarvi Pensate invece che, se lavorerete duro, raggiungerete il migliore risultato possibile, punto Luna protagonista nel vostro segno, a braccetto con Plutone e in buona amicizia con Urano, griffato dall'elemento terra come voi Amichevole anche Nettuno creativo in se stile, il giusto amalgama tra senso pratico e romanticismo, razionalità e intuito Peccato che Mercurio, suo compagno di viaggio, proprio oggi lo lasci per andare a raggiungere il sole e venere già malmostosi in quadratura Tutti e tre staranno molto attenti alla casa e alla vita familiare, su questo punto almeno potete stare allegri, il pranzo sarà riuscitissimo e in buona compagnia Amore ed Eros, focus su casa e famiglia, una volta tanto stare in compagnia dei vostri cari, più i due ospiti consentiti dai regolamenti, vi fa un gran piacere Ricevete complimenti per la casa e per la cucina, si parla di tutto un po', sollevando non solo argomenti di attualità, ma anche pensieri filosofici e di natura spirituale ed etica Un bicchiere di buon rosso scioglie la lingua, riportando la memoria ai fasti del passato, alle Pasque trascorse insieme e a tutte le primavere della vostra vita, che riviste alla Moviola paiono sempre più colorate e bellissime Beh, rispetto a quella attuale certamente, il mondo è davvero alle prese con un bel guaio, ma anche voi, come tutti, coltivate la speranza di uscirne al più presto Cercate lo svago necessario per allietare le pesanti giornate che vi attendono, tra impegni personali e di lavoro Il conforto e il divertimento maggiore li troverete nel partner, che arde di passione per voi Un mercurio proprio da oggi imbronciato, dal segno dell'ariete, può o non farvi sintonizzare pienamente con la persona amata, in special modo se avete cominciato da poco una storia e se siete nati della prima decade La vostra presenza di spirito combinata con la praticità con cui saprete affrontare le questioni difficili, vi permetteranno di aggiustare ogni incomprensione passeggera con notevole facilità Lavoro e denaro, un grande affare a casa per cucinare, apparecchiare, intrattenere, sparecchiare, ma lo fate con piacere, specie se avete appena rinnovato la vostra abitazione con colori, tendaggi e un arredamento più chiaro, allegro e funzionale I complimenti si sprecano ma sono tutti meritatissimi, punto Fatevi aiutare se in un compito da terminare la vostra fantasia pecca un po', in fondo avete così tante cose a cui pensare che è comprensibile non possiate pensare a tutto voi come vorreste, punto Quale è l'attore del vostro segno che meglio rafforza la fama di Duro dal cuore tenero del Capricorno? Ma senz'altro il bravissimo Jude Love, che nel film L'amore non va in vacanza di Nancy Meyers, girato nel 2006 mette in scena in modo superbole sue qualità recitative, punto Benessere, pieno benessere, nonostante col piatto abbiate davvero esagerato, tra qualche giorno magari allo specchio vi pentirete di tutto il cioccolato e delle leccornie messe in tavola, ma per ora non volete pensarci Sarà il vostro spicchio di serenità, la consolazione che avete deciso di concedervi dopo settimane così nere e ansiogene, felici di vedere i vostri cari tutti in buona salute e con l'umore discretamente alto, amate la vostra casa e il vostro spazio privato, ma sapete di dover avere cura anche della vostra abitazione più grande, la terra Molti non lo fanno, se ne fregano e la distrattano, ma voi no, la rispettate e amate, perciò farete sempre del vostro meglio per guarirla e aiutarla a sopravvivere, punto Sei pronta a muoverti con il tuo piglio migliore, fai un bilancio dei progressi che hai fatto nella tua dieta e pianifica il tuo prossimo passo, è giunto il momento di iniziare una nuova fase, punto Per lei, tavola verde, bio, vegetariana, magari non sarà proprio così tutti i giorni ma ai vostri cari volete dare un input, una svegliata, è così che bisogna vivere, e questo sarà solo un esempio, punto Per lui, che pasticcioni, proprio oggi con la suocera a tavola, che vi guarda con occhio ipercritico, apparecchiando con stile, come vi ha insegnato la vostra lei, incespicate nel tappeto e Vorrà dire che anche questo dovrà essere rinnovato, punto Colore delle emozioni, bianco latte, punto Barometro dell'umore, sereno, punto Pagellina del giorno, sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 8, benessere, 6, punto Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali, non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno, ci vediamo